Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma riuscite via, non mi pare un papo. Non netto, che succede? L'altra sera mi chiede e mi disse lo sai, mi piacerebbe fare l'amore come quando eravamo giovani, ma non da sposati, da fidanzati, ci stai con me con burro coi d'occhio. Dice qui, preservativo. Si, c'è manca pure un soppisì sopra. Ma riuscite via, non mi pare un papo. Ma lei non le può perdere cosa, ma te lo vedete? Si sta... E' un peso, ci stai. Si sta sbattellando. Si, sessi. ...